Buongiorno, come vedete ET e PV sono due meoproliferative neoplasmi in cui la storia naturale è caratterizzata tra trombosi, eventi hemorrhagici e c'è una propensione inerente per trasformare la myelofibrosi e, eventualmente, alla leukimia acuta. La mia parola oggi è per rilassare alcuni punti che potrebbero essere interessanti nella pratica clinica. Rilassare la rilassazione per trattamento di questi pazienti e presentare un caso e poi faccio qualche considerazione. Prima di tutto, il obiettivo della terapia in ET e in PV è evitare la trombosi, non per prolungare la survival di questi pazienti. E devi usare drogas per minimizzare il rischio di acute leukemia e la post-PV e post-ET, la myelofibrosi, per controllare, ovviamente, i sintomi sistemi, per trattare complicate e per gestire la situazione rischio. Per ottenere questi obiettivi, hai, da che la trombosi è la principale per trattare questi pazienti, per ridurre la trombosi, prima di tutto, devi mangiare il fatto generico cardiovasculare rischio. E in PV, l'asperina di low-dose, per tutti i pazienti, per tutti i pazienti e solo la phlebotomi, in pazienti di rischio. E in pazienti di rischio sono pazienti di meno di 65 senza una trombosi precedente. Per pazienti di rischio dovrebbero essere tratati, prima trattamento di trattamento con l'hydroxyurea e in alcuni pazienti con interferon più o meno di la phlebotomi. In generale, la trattata potrebbe essere anche buosulfante. Buosulfante è dato in periodi refratori di tempo, in low-dose, potete ottenere la remissione e mantenere la remissione, a volte non hai bisogno di aggiungere, per lungo periodo di tempo, buosulfante. E c'è anche un testo clinico su buosulfante versus l'hydroxyurea, fatto da molti anni fa, da URTC in Europa. In essenzial trombocytemia, low-dose aspirin, non è consigliato in tutti i pazienti. Hai bisogno di distinguere, caso per caso. In low-risk pazienti, nessun pazienti dovrebbero essere tratati con aspirin, low-dose, aspirin, perché il rischio di spiegare avviene avviene il rischio di trombosi. Questo viene da alcuni dati prodotti da nostri amici in Spagna, e abbiamo riprodurato lo stesso in pazienti con ET, jack-2 positivo. Quindi questa è l'unica categoria dove puoi pensare la possibilità di dare low-dose aspirin. In high-risk pazienti, l'hydroxy e l'interferino è un'interferino di pazienti. Seconda linea terapia. Ovviamente, in PV, se cominciamo con l'hydroxyurea e il paziente diventa resistente, puoi considerare l'interferino alfa. Opposito, in quelli che cominciano con l'hydroxyurea puoi considerare l'interferino o'biosulfano in alcuni pazienti, secondo la vita dei pazienti. La recomendazione europea come seconda linea terapia in ET consideriamo un agrilyde, interferon alfa e, secondo la vita, come ho detto, alkylating agenti che sono bipobromano e biosulfano. Quindi, questa è la recomendazione. Vediamo questo caso. Un uomo 71 anni presentato nel 1995 con un PV. L'hematocritico era particolarmente alto, con un positivo, 54% allele, era un smogero, presentato con l'ideica, pruritura, aveva diabeto o droghe norale, e un palpabile splenomegale, 3 cm, dal margine costale. La biopsia del marzo mostrata tipica del PV, ma con alcune fibrosi, reticulum, grazie 1, fibrosi. Ho dovuto mentionare che due anni prima di questa diagnosi, ha sofferto da un solo episodio di TIA cerebrale. di TIA. Quindi, questa era la prognosità e la terapia di TIA. alto rischio. Per qualsiasi diabeto, diabeto, prima trombotica, era tratato con flebotomia, aspirin e hidroxyurea 1 gram daily. No eventi fino al 2011, quando presenta la trombota spontanea, non provocata la trombota iliofemoral. era tratato come raccontato in venous trombosis full dose heparin e poi cumadine come prophylaxis in addition a flebotomia e hidroxyurea. Abbiamo avuto la dose di hidroxyurea a questo punto 1,5 gram daily. aveva buona risposta ma aveva recorrenza del cerebro mentre aveva questi druggi. Quindi aveva tutto che possiamo prescrivere in un paciente considerato un alto rischio di vera. che poi dimostrava una progresiva esplenomegale 6-8 cm dal costal margine e pruritura e Non necessità di flebotomia. La biopsia di reticulum 2 e di di attraverso un post-PV malofibrosi e accettare in un studi experimentale studia. Quindi parliamo di questo paciente che era chiaramente resistente per due razioni. La prima perché aveva trombose. trombose vedete Jean-Jacques Eglise Jean ha pubblicato recentemente nel giornale Clino-Oncologia un'update del loro vecchio studi comparando l'hydroxyurea vs. Pepobromane in Francia. e vedete qui che il trombose in l'hydroxyurea dopo 15 anni era circa 30-40% dei pacienti. Quindi non è negliabile durante l'hydroxyurea. Abbiamo studiato da Alessandro nella sua presentazione in Italia studiando una trombose in pacienti che erano trattati con droghe citoreductive e vedete qui il numero di PV e ET. 33% dei pacienti avevano una ricorrenza. Il primo ricorrenza era circa 6% di questi pacienti che non negliabile. E vediamo il rischio per questa trombose pazienti dopo la prima trombose per evitare per evitare recorrenza in trombose cerebrale trombose trombose major parte di antipatelet agente protezione è circa 70% e la trombose è anche interessante. Vedete che pacienti di di 60 anni presentano due volte più trombose di di 60 anni questo è dato che questi pacienti erano meno trattati con terapia trombose che importa qui è anticoagulazione lunga se vuoi ridurare la trombose antipatelet agente e una volta l'età meno di 60 è associato con rischio di trombose perché questi pacienti erano meno trattati con citoreductivo la seconda possibilità è la resistenza a intoleranza con trombose trombose con trombose se un paciente prende almeno 3 mesi 2 grammi di hidroxyurea e platelet in questo caso sono più 600 e leucopenia o anemia si considera questo paciente resistente a hidroxyurea ovviamente la toxicità è mesurata con ulcer e altre toxicità mucocotaneo che si ha hidroxyurea relato questo correla con questo resistente abbiamo qualche informazione anche qui considero che la risposta in et in hidroxyurea non 50 60 è solo 20 di paciente la maggior parte hanno una risposta intermedia e avete anche resistenza di circa 20 o 30 di pazienti questo non colore però con eventi almeno se consider la normalizzazione di leucocides se non riusci la normalizzazione di leucocides hai una survival che è higher che in pazienti senza la normalizzazione quindi l'implicazione ha stato recentemente pubblicato dai nostri amici in Spagna e vedete che dopo 4,5 anni se sei resistente si survive meno meno quelli che presentano una risposta e non frequente ma in circa 10-15% dei pacienti avete questa foto resistenza quindi probabilità di resistenza è associata con 6 aumentare nel rischio di morte probabilmente c'è una selezione di pacienti di hidroxyurea in hidroxyurea resistente PV patients this is this is characterized by need of lobotomy while on hidroxyurea or platelets leucocytosis you don't have spleen reduction so these patients are PV consider resistant to hidroxyurea of course you have the same toxicity as in ET once again you have a clinical impact of that in terms also of risk evolution to malofibrosis and acute myelogenes leukemia another another point to be considered also considering our patient you remember our patient presented with mild splenomegaly so the question is what is the significance of mild splenomegaly in PV does this correlate with the outcome so let's see here this number of patients we have seen characterized by WHO diagnosis so all this PV were positive with the bone marrow characteristics ET were not included those with early PMF these patients presented in ET 16% with pulpable splenomegaly in PV 35% they had splenomegaly and you see here the size of splenomegaly of course the great majority 96 94% presented not a big splenomegaly less than 5 cm but you have a small fraction with a big splenomegaly that are not considered initial myelofibrosis but still PV on the basis of bone marrow biopsy so we follow up these patients with these PV patients and they develop earlier myelofibrosis as compared with those without splenomegaly so it matters to measure the spleen at the beginning of patients with PV another point to be considered in our patient you remember grade 1 grade 2 melofibrosis so we followed this number of patients and we were able to find in 14% of these patients initial melofibrosis with a picture bone marrow picture typical of PV once again the overt melofibrosis was a higher rate in those presented with reticulum as compared with the others the latter point that can declare the failure of your drug is if the drug is not able to control systemic symptoms as you know in PV in ET of course in melofibrosis we have many possibilities of having constitutional symptoms particularly in PV you have fatigue pruritus particularly net sweats but also bone pain sometimes you have weight loss so the last point is the intolerance about 5% in the series coordinated by in a study coordinated by Alessandro Van Nucchi in Italy a retrospective analysis 5% presented with side effects two other trials reported 11% in PT1 trial with intolerance to hydroxyurea and another trial in Spain 12% was reported to be intolerant and the intolerance was characterized in the study by the group of Alessandro by Antonioli and other colleagues particularly mucosal cutaneous problems in those considered intolerant 91% very few patients can present fever 80% and very rare case pneumonitis so in conclusion in PV NET the rate of thrombosis recurrence while on conventional drug such as hydroxyurea is high there is an impact of hematological resistance to hydroxyurea and survival and the results of randomized clinical trial comparing hydroxy with interferon or hydroxy with JAK2 inhibitors are weighted thank you for your attention